I finanzieri del Comando Provinciale di Riggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal dottore Emanuele Crescenti, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del locale tribunale, che dispone le applicazioni della misura cautelare del sequestro di beni immobili ed immobili, per un importo di oltre 220 mila euro nei confronti di una società di Palmi e del suo rappresentante legale. In particolare, con il provvedimento in parola, la citata autorità giudiziaria ha disposto fatte salve le successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità nelle ulteriori fasi del giudizio. Il sequestro della disponibilità finanziaria della società, nonché dei beni mobili ed immobili, riconducibili al suo rappresentante legale, per un valore complessivo pari a 226 mila euro. Le indagini svolte dalle fiamme gialle della Compagnia di Palmi hanno avuto ad oggetto un sofisticato sistema di frode, che ha consentito di compensare indebitamente debiti tributari e previdenziali con crediti fiscali inesistenti. All'esito delle indagini, pertanto, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, condividendo la proposta avanzato dalla Procura della Repubblica, a quella sede ha disposto il sequestro delle somme base.